Oltre 200 finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto dei comandi provinciali di Salerno, Caserta, Catania, Torino e Varese, stanno seguendo 20 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia Partenopea nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti membri di tre distinti gruppi criminali narcotrafficanti con basi operativi a Torre Annunziata e nei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano. Il primo gruppo dei criminali è riconducibile alla famiglia genovese, già oggetto ai precedenti vicendi giudiziarie per affari illeciti col clan Gallo Cavalieri di Torre Annunziata. In particolare il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli è riuscito a ricostruire i traffici di Genovese Franco, promotore del sodalizio criminale, il quale aveva acquistato partite di Ashish da trasferire prima in Sicilia, attraverso l'intermediazione di un esponente del clan Cappello di Catania, e successivamente a Malta, dove un suo associato provvedeva ad immettere nel locale mercato dei stupefacenti. Parallelamente l'attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su un secondo gruppo criminale, composto dalle famiglie Manzi Danier, operante nei quartieri di Scampia e Secondigliano. La famiglia Danier risulta storicamente inserita nel panorama ennacotraffico ed è ritenuta vicino al clan di Lauro. Il Gico di Napoli ha posto l'attenzione su un terzo ed ultimo gruppo criminale, composto esclusivamente da componenti della famiglia Danier, rivelati sia abili broker della droga, tantando numerose referenze tra gli esponenti e i cartelli fornitori spagnoli e tra diversi affiliati di clan camoristici nell'area napoletana. Determinanti per il loro business i frequenti contatti che i Danier stabilivano e mantenevano con esponenti di diverse organizzazioni, tra le quali di Lauro e Caldarelli, rispettivamente genmoni dei quartieri partenopei di Secondigliano e delle case nuove, ai quali avevano proposto la fornitura dello stupefacente. Complessivamente nel corso di questa lunga investigazione sono stati tratti in arresto 11 soggetti e sequestrati 576 kg di hashish, 11 kg di cocaina e 166.360 euro in contanti. L'attività odierna costituisce l'epilogo di una complessa investigazione di polizia giudiziaria condotta dal Gico della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura distrettuale antimafia di Napoli. L'attività investigativa si è concentrata essenzialmente su tre gruppi criminali operanti sia in provincia di Napoli, nella città di Torre Annunziata, che nei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano. I componenti del sodalizio criminale avevano dei contatti molto stretti con appartenenti a clan napoletani operativi da sempre nel campo del narcotraffico, così da riuscire ad ottenere delle forniture costanti di cocaina ed hashish da destinare sia alle piazze di spaccio napoletane che addirittura in altri paesi.